Buongiorno a tutti, un saluto da Pavia, una città di Renta Milà, anche se mia sarebbe la campagna non proprio di Pavia, di una zona in Dekifana ben buona, che la chiamiamo ultra po' pavese. La sua Simone ha lavorato per un progetto che si chiama Idu Passi Storico Original, e l'è dura, resta sarà su in casa tutto il tema, mia, certo, da pensare positivo. La fatta che arriva la primavera è spero proprio da poter rispondere a tutti presti, prendere il canale e trovare un barcè, la barca tipica di Pavia, chi può vedere una foto, aspettare da solo, in due o in quattro. E vuoi altrimenti che stai? Pianti l'anno da sperare, mi raccomando, tutto andrà bene. Ciao!